17 ottobre 1933, Albert Einstein arriva negli Stati Uniti. Lo scienziato ebreo lascia la Germania per fuggire alle persecuzioni naziste. All'epoca della fuga ha già vinto il premio Nobel per la fisica dopo aver pubblicato nel 1905 una memoria in cui espone i principi della teoria della relatività. Una memoria che sconvolge le concezioni della fisica classica e getta le basi per una nuova impostazione delle ricerche scientifiche. Famoso in tutto il mondo trascorre in America gli anni finali della sua vita e qui muore nella città di Princeton nel 1955. Quando una nota enciclopedia gli chiese la sua biografia Albert Einstein rispose inviando un testo di 14 righe soltanto. Eccolo nacque a Ulm in Germania il 14 marzo 1879. L'infanzia la trascorse a Ulme a Monaco poi andò all'università a Zurigo. Dopo la laurea fu assunto all'ufficio brevetti di Berna con l'incarico di esaminare le richieste di brevetto. Fu in questo periodo che lavorò una serie di scoperte che trasformarono la fisica. Ricevette onorificenze alla Sorbona e fu insignito del premio Nobel. Fece ritorno nella natia a Germania soltanto per esserne spulso dai nazisti insieme ad altri intellettuali tra cui Thomas Mann. Si stabilì definitivamente a Princeton nel New Jersey e diventò membro permanente dell'istituto di studi superiori. Le sue scoperte sulla relatività portarono altri scienziati a costruire la prima bomba atomica. Einstein non ebbe però alcuna parte nella realizzazione della bomba ed esortò le nazioni a rinunciarvi trattandosi di un'arma terribile. A queste note autobiografiche l'enciclopedia giunse soltanto. Aveva 76 anni quando morì il 18 aprile del 1955. Ma basterebbe approfondire la conoscenza della prima parte della vita di Albert Einstein per aiutare una comprensione del personaggio. L'intelligenza è un fiore delicato, dirà più tardi riferendosi ai suoi anni giovanili. E per spiegare la strada seguita nel raggiungere i suoi traguardi di pensiero aggiungerà. Penso che una delle motivazioni che portano l'uomo verso l'arte e la scienza sia il desiderio di trascendere il quotidiano, fuggendo dalla sua dolorosa durezza e dalla sua cupa monotonia. Sono motivazioni che potrebbero essere paragonate al desiderio che spinge irresistibilmente l'abitante della città verso la vita diversa delle montagne. Per un artista, uno scienziato, l'unica cosa che conta è osservare e comprendere gli oggetti, il mondo che lo circonda. Dalla teoria della relatività ristretta o speciale, scaturisce che la massa e l'energia sono manifestazioni diverse della medesima cosa, un concetto in qualche misura insolito per l'uomo della strada. Inoltre, l'equazione E uguale mc al quadrato, in cui l'energia è uguale alla massa per la velocità della luce al quadrato, dimostra come una piccolissima quantità di massa può essere trasformata in una grandissima quantità di energia e viceversa. Secondo questa equazione, la massa e l'energia sono di fatto equivalenti. Ciò è stato dimostrato sperimentalmente nel 1932 da Cockcroft.